ciao ragazzi la stagione agonistica è terminata già da un mesetto però qui bisogna riprendere a darci sotto perché si tra un po arriverà l'inverno ma bisogna prepararsi per il prossimo anno a questo proposito adesso inizierò una serie di allenamenti in piscina che mi permetteranno di migliorare la tecnica natatoria io vengo da anni di pallanuoto per cui il mio nuoto è molto muscolare testa alta fuori dall'acqua tanta spinta di gambe braccia frequenza di bracciate molto corta e questo qui è la è la classica notata da pallanottista adesso vorrei rivedere un po il tutto su youtube ho visto che esiste un movimento si chiama total immersion che è nato da un insegnante di nuoto che si chiama terry loflin questa tecnica natatoria permette di scivolare nell'acqua come un pesce facendo meno attrito possibile facendo poche bracciate tenendo la testa diciamo in linea con la spina dorsale le gambe si utilizzano solo per tenersi a galla e questo permette di nuotare a lungo senza particolare affanno ovviamente non è una tecnica da centista duecentilista ma una tecnica per nuoto endurance adatta appunto per noi che facciamo triathlon andiamo adesso in piscina anche a provare questa impermeabilità della insta 360 diciamo 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 isti diciamo dici Grazie a tutti. 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 Da quello che abbiamo visto in questi video si può notare che la testa non è ancora messa bene, deve essere una linea retta con la spina dorsale. Le gambe sono un po' troppo larghe. E una cosa che ho notato, anche se in linea di massima le bracciate vanno già abbastanza bene, però quando entro col braccio sinistro il destro è già al lavoro sott'acqua. Cosa che invece nell'entrata con il braccio destro è già ottima così, per cui devo migliorare sull'ingresso del braccio sinistro. Se quello di oggi era un video così, una prova generale di quello che andrò a fare nei mesi a venire, nei prossimi andrò esattamente a illustrare workout per workout quelli che sono gli allenamenti principali di questa Total Immersion. Non dimenticate dunque di iscrivervi se non l'avete già fatto a questo canale e vi do l'appuntamento al prossimo video.